E ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati sul mio Fantasquido Raga oggi siamo insieme ad Antonio Saluta Anto Raga oggi giochiamo con Antonio come avete saputo Lo invitiamo E ho scoperto grazie a lui come cambiare la skin La mia è questa con un ballo diverso Siamo con la stessa La cambio o lascio questa? Ok che facciamo modalità classica nuova classica Ok Raga iniziamo partita Immediato Ora Facciamo che Che ne dici ti seguo io o ti invito a seguirmi? Ok Non mi va Raga giriamo il telefono perché Alcune cose non vanno Segui Non me lo fa Ah ecco Ti sto seguendo Sì Sì Allora C'era blu Qua c'era blu Ma la lì non è trafatti Non lo penso io così Se non l'ho avessi scoperto neanche altre volte Non lo so eh Non lo so eh Non lo so Non lo so Raga abbiamo solo Come si chiama? Abbiamo abbassato il volume Perché se no ci disturbava Mentre giocavamo E non sentivamo niente Io e lui Scegli tu Io ti sto seguendo Forza raga Questa dobbiamo vincerla Tu vai da sopra E io da sotto Ho preso già un'arma Due Un'arma Eh? Io non ho letto Abbastanza velocemente Io non ho sentito niente Perché E' tutto abbassato Oh Raga Facciamoci un soja Un soja Lo faccio un soja? E' soja di ieri No Curami Ahi qualcosa Ti prego Sì Sbrigati Ecco Ora Dove sono i nemici? Oh questo Volevo No volevo Volevo fargli Uno scherzo Raga Corriamoci Io ho già finito Tutte le band Per arrivare Fino a 100 Distruttore Camicia Costante No Dove sono? Oh mio dio Però dobbiamo Ucciderlo Del tutto Sennò I suoi compagni Vengono Ad aiutarlo Capito? No Per sicurezza Dobbiamo farlo Lancio una granata Ne ho 10 Mi sto currando Anche No Ora non Ne ho più Hai qualcosa Poi Eh ma Se poi muoio Hai qualcosa? Oh grazie Ma come fai a dare la metà? Che volevo Basta Ti do Le granate Ragazzi Giamoli Le granate Ti do la metà Preso? Eh? Però Non ho Ancora Il materiale Andiamolo A prendere Hai qualcosa Però Prova Ho Un'arma Scarica Che Di solito Le arme Scariche Le butto Però ne ho altre Tranquillo Mi stanno Uccidendo Mi stanno uccidendo Aiuto Presto Mentre mi curro Mentre mi curro Ti prego Non lo so Dove? È un'arma Ma è la mia Questa Senza Munizioni Ok Ok Grazie Vieni Un attimo Ho trovato Tante cose Camicia Sportiva La prendo Però Non faccio Paura Così Vieni Sì La vuoi tu? Eh? Sì Dovrebbe Ah Però Prendi Qualche Arma Ok Ma hai già usato Le bombe Ah ok Ti hai preso Anche io Ho preso Un medikit Ne ho sei In tutto Tu? Vai Ne vuoi uno? Sicuro Però Vieni da me Ho trovato Mitra Tipo V SS Sai dove sono? Ah Prendilo Prendilo tu Questo? Eh ma Che lascio? Oh Le bombe Te le do Tutte a te Però Vorrei provare Una cosa Come funzionano Ok Te le do Raga Conferma Conferma E' un mitra No che non sono abituato a giocare a questo Non me lo prendeva Le munizioni Vediamo su Ho visto No cassa Ma ora Sì Cosa sono? Primo soccorso L'hai preso tu? Non fa niente Ah Ok Raga però In Questo video Dobbiamo arrivare Di tu Quanto dobbiamo arrivare Like Like Scegli tu 3000 like Raga Dobbiamo arrivare Almeno a 3000 like Che succede? Sparano? Oh Io ho un'arma Di 200 Ti hanno messo a terra Ah Ho un'arma Di 203 Tu hai Hai uno Scar Oh Aiuto Aiuto Mi devo curare Sparalo Sparalo Un attimo Aiuto Che spavento Ancora uno Ecco Ho dovuto Usare Da Undici A Cosa? L'ho dovuto Usare Da undici Medikit A A Quattro Quale Scar Te l'ho Già Detto Che non Sono Abituato A giocare Ma Che lascio Questo Rendito Rendito La Cap Di cosa Deo Scano 102 127 Però Vorrei Sapere Qua non ci fermiamo più mi sa per il video raga che non non muoriamo mai Anche io ho visto uno sparo ho visto uno sparo ma sono nella zona dove sono 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 uscito Aiuto Faccio una piattaforma Pronto? No Andiamo Sali Sali No sono morto Aiutami No Non mi volevo buttare aiutami Sono alla fine Quasi alla fine della scala Sì Presto Eh Sì Corro Uso le scale L'ho usato Aiuto Ho 22 Significa Non ho più niente Non ho più medikit Aiuto Aiuto Ho trovato No Aiuto Sono nel Sono Non ho più niente Aiuto Sono morto Sono morto Raga aiuto Ok Osserviamo Antonio Raga però Questo è noioso Osservare le persone E quindi E quindi Stoppo un attimo il video Un attimo Raga ecco fatto Ok Raga Abbiamo Siamo arrivati Secondi Ringraziamo Ringraziamo Antonio Grazie Antonio Per Aver Fatto con noi Questo video Per questa volta è tutto Vi compaio un altro video E da Mille Sendini E Antonio Out Out Scusate Grazie a tutti